Alberto Marolda, siamo a Grotta Minarda, Campania, provincia di Avellino, all'INGV, la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Qual è il problema dei precari dell'INGV e soprattutto il grave problema di questa sede di Grotta Minarda? Allora, la sede di Grotta Minarda è nata nel 2004 a seguito di un progetto finanziato dal Ministero della Ricerca e Università e prevedeva l'assunzione di una serie di persone con contratto a tempo determinato, una ventina circa, e tutti giovani, tecnici e ricercatori e tecnologi, con l'obiettivo di aiutare l'INGV nello sviluppo di un rete di monitoraggio sismico e geodetico in Italia Meridionale. Queste persone sono state assunte con un contratto a tempo determinato e tuttora questo contratto è rinnovato, quindi a distanza di otto anni. Vogliamo ripetere l'organico, siete 21 persone di cui 18 precarie? Assolutamente sì, circa l'80% è con contratto a tempo determinato. Se salta a Roma per un qualche motivo rimane Grotta Minarda a funzionare. Sì, infatti la nostra sede di Irpinia è dotata appunto di una sala di monitoraggio sismico che è simile a quella di Roma e quindi interviene proprio quando la sala di Roma ha dei problemi di qualsiasi tipo. Però la sede di Irpinia in questi ultimi anni ha una serie di attività che sono proprio attività istituzionali dell'ente, che sono la manutenzione delle stazioni che è fondamentale per la rete sismica, perché senza manutenzione ovviamente non funzionando le stazioni sarebbe impossibile localizzare i terremoti. All'interno delle stazioni di monitoraggio ci sono la strumentazione per localizzare gli eventi sismici. In realtà perché siamo qua? Cosa sta per succedere sia in questa sede di Grotta Minarda, ma anche nelle sedi di Roma, nell'osservatorio Vesuviano, di Catania? Cosa sta per succedere a voi precari? I precari agli NGV rappresentano circa il 40% del personale. Molti di questi precari erano stati inseriti in un processo di stabilizzazione, che però non ha visto luce perché mancano appunto i posti in pianta organica. Quindi questo significa che adesso, il 31 dicembre, scadranno e non sappiamo se questi contratti verranno rinnovati o no. Se ovviamente i nostri contratti non verranno rinnovati, il nostro centro chiuderà. Con un impatto anche sulla zona, voglio dire, Grotta Minarda, se è stato fatto il centro è stato fatto anche per cercare di creare un impatto intorno, un impatto occupazionale. Assolutamente, una zona che voglio ricordare è una zona che ha avuto adesso un altro impatto molto forte, quello dei dirisbus, che è proprio di fronte a noi, quindi con più di 700 posti di lavoro persi. È la fabbrica della Fiat dove si costruivano gli autobus. E allora voi che cosa vi augurate? Perché vi augurate un rinnovo contrattuale che vi porti fino a 50 anni per riporvi il problema? No, noi ci auguriamo che ovviamente ci sia una ripresa del processo di stabilizzazione, perché noi ovviamente avevamo maturato il diritto di essere stabilizzati e quindi noi vorremmo che questo diritto poi diventasse una realtà. C'è una cosa anche molto importante da dire, l'Ingv è padrone della sede e c'è stato un investimento di diversi milioni di euro. Questo significa che entro fine anno in teoria dovrebbe essere vuota questa sede, non funzionante, e tra l'altro buttare via non solo la sede, ma buttare via anche delle persone che sono state formate a spese della collettività, perché voi siete anche andati all'estero via di seguito. Sì, è chiaro che il caso di Crota Minarda è abbastanza eclatante per l'Istituto ed il rischio è questo. Ho fatto il mio dottorato in Francia, a Parigi, e ho cominciato a fare il mio postdoc qui in Italia grazie a quel progetto che ha aperto la sede di Crota Minarda. E adesso potresti trovare occupazione in Italia o sarai costretto ad andare fuori nella malaugurata ipotesi che non ti rinnovassero questo contratto? Sospetto che dovrei cominciare a pensare di andare fuori. Insomma, ho un figlio. Un figlio che non si sa dove andrà. Speriamo davvero che non ci sia questo enorme spreco. Arrivederci. Speriamo davvero che non si sa dove andrà. Grazie. 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 Grazie.